Quindi l'argomento intercettazioni soprattutto con riferimento anche ai cosiddetti reati spia perché tu spesso fai delle intercettazioni inserite in complesse indagini che poi portano per esempio all'individuazione del rifugio di un latitante ma partono senza che si sappia che ci sia un contenuto mafioso che motivi le intercettazioni. Quindi io auguro a Carlo Nord con tutto il cuore e con tutta la stima che gli porto di riflettere molto attentamente su questo argomento perché poi vede, lo diceva poco fa Sisto, altra persona rispettabilissima 200 milioni l'anno, in un bilancio dello Stato italiano 200 milioni l'anno, ne possiamo risparmiare 50, diventano 150 non mi pare che sia un argomento, lo trovo se posso dire la verità lo trovo ridicolo. Che dice Baldino Rivo Sisto? Sono assolutamente d'accordo con Ayala, sono 160 milioni l'anno il costo delle intercettazioni nel nostro paese io ho sentito dire Nordio che le intercettazioni in alcuni casi sarebbero costose e inutili a fronte di, guardi per esempio io mi chiedo e qui vengo anche, sono d'accordo con Ayala quali sono i reati minori per i quali le intercettazioni dovrebbero essere depotenziate o tagliate o escluse per caso i reati dei furti di Gallina o i reati bagatellari a me sembra che invece il disegno di questo governo, posto che le parole di Nordio sono agli atti ossia i mafiosi non parlano al telefono, sia quello di depotenziare l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni per i reati spia, che sono i reati di corruzione e nella gran parte dei casi i reati che hanno una matrice mafiosa vengono di fatto scoperti attraverso l'utilizzo di intercettazioni che partono per un altro tipo di reati o che sono appunto i reati spia quali sono i reati spia? I reati di corruzione che questo governo vuole depotenziare e la corruzione, se parliamo di costi, costa al nostro paese circa 100 miliardi del nostro bilancio dello Stato quindi è lì che bisogna intervenire anche perché, ce lo dicono le cronache e chi conosce e sta studiando le nuove mafie o la nuova vecchia mafia sa benissimo che ha cambiato pelle non è più la mafia stragista non è più la mafia con la coppola e la lupara non è più le mafie che spara perché? Perché è più benevola no, semplicemente perché non ne ha bisogno non ha bisogno di sparare ha cambiato metodi perché con la liquidità può comprare quindi con la corruzione può comprare qualunque cosa nonostante le scopole, continua a dire le stesse cose ed è facile, diciamo, respingere al mittente perché purtroppo la realtà non è cambiata no, 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 no volevo dire, a me non rassicura affatto questa necessità di distinguo da parte del sottosegretario Sisto del ministro Nord e del centrodestra a fronte della necessità appunto di depotenziare le intercettazioni per i reati minori che loro dicono essere minori io mi ricordo ad esempio un'intercettazione la notte del terremoto dell'Aquila in cui c'era gente che rideva mentre la gente moriva sotto le macerie e lì non ci sono reati di mafia contestati ma reati di corruzione che hanno comunque un effetto un impatto nella vita di tutti io mi ricordo che grazie alle intercettazioni sono state ad esempio scoperte scoperti reati e reti non mafiose ma corruttive per quanto riguarda la sanità pubblica che anche questo è un interesse di tutti i cittadini e potrei andare avanti per ore posso fare una domanda alla collega Pallino? quindi l'utilità dello strumento scusi, scusi ma se noi eliminassimo il Trojan il Trojan, no, assolutamente no il Trojan l'abbiamo inserito noi con lo spazzacorrotti perché abbiamo reputato uno strumento di indagine essenziale perché guardi la mafia così come le reti corruttive che adesso come dicevamo sono l'avamposto della mafia sono molto avanti ed è necessario a livello dell'utilizzo degli strumenti tecnologici quindi è necessario che anche la giustizia si doti di quegli strumenti che possano non inseguire ma stare al passo con delle reti corruttive che non è vero che non parlano al telefono e non utilizzano i dispositivi perché abbiamo visto ad esempio che Messina Denaro aveva due cellulari scambiava messaggi quotidianamente e alla cattura si è arrivati anche grazie all'intercettazione di persone non indagate che erano i parenti di Messina Denaro quindi tutte queste cose noi le dobbiamo tenere ben presenti perché altrimenti è inutile mi scusi che ci facciamo i comunicati stampa di giubilo e diciamo la mafia lo Stato ha vinto sulla mafia perché se non intercettiamo le reti corruttive di cui si serve la mafia per fare affari allora non potremmo mai dire mi scusi che la mafia è sconfitta perché se è vero che la mafia non uccide più non è alzare tanto vero che la mafia non corrompe non irrompe nella economia legale quindi noi anche siamo garantisti il garantismo non è appannaggio di una forza politica noi siamo garantisti rispettiamo la Costituzione rispettiamo l'articolo 24 della Costituzione però noi abbiamo a cuore i diritti e le libertà di tutti e questo passa anche attraverso un freno alla corruzione che è una droga per l'economia legale e per anche la meritocrazia nel nostro paese quindi non vogliamo dire questo però no vorrei fare una domanda io sono d'accordo sulle garanzie necessarie per la garanzia della professione però vorrei dire una cosa argomentando al contrario dovremmo dire che nessun avvocato dovrebbe essere intercettato io non sono d'accordo sono d'accordo nel rispetto dell'articolo 103 del codice di procedura penale ma non sono d'accordo sul fatto che nessun avvocato possa mai essere intercettato ma è questo già è garantito dal 103 qui stiamo dicendo un'altra cosa qui stiamo dicendo un'altra cosa e no qui stiamo dicendo un'altra cosa e certo vanno intercettati vanno intercettati se non rientrano nell'ambito della garanzia del codice di procedura penale discutiamo se c'è già la costituzione i codici che comunque garantiscono ha detto un'altra cosa scattina la cosa anche perché la commissione antimafia è la commissione che è anche deputata al controllo delle liste e purtroppo per elezioni regionali di Lazio e Lombardia è già sfuggito questo controllo delle liste perché non sarà mai istituita la commissione antimafia prima delle regionali che ci saranno tra un mese questo è un dato allarmante e per questo noi abbiamo sollecitato i presidenti di Camera e Senato a velocizzare l'iter di approvazione di questa proposta di legge ricordo che nella scorsa legislatura il governo si formò a giugno il primo di agosto era già promulgata la legge istitutiva della commissione antimafia due mesi ora siamo leggermente in ritardo e quindi è necessario che l'iter parta al più presto e proceda senza intoppi per avere una commissione pienamente il pieno dei suoi poteri per poter proseguire le indagini controllo dei partiti a questo punto guardi lei lo sa che il medico di base che curava Matteo Massina Denaro è stato candidato nelle liste centriste Cuffaro ha fatto sapere io non ne sapevo nulla però lei capisce che come dire a fronte di queste notizie ci siamo capiti quando parliamo di prevenzione facciamolo capire che da un punto di vista formale essere indagati nel nostro paese almeno finché c'è una presunzione di non colpevolezza non significa essere colpevoli meno male anche se mediaticamente non è così però ha preso immediatamente le distanze ha detto basta ritiro la mia candidatura quindi mi sembra che il bogest di Peppino Valentino valga più di quello che è stato ieri agitato di fronte al ritiro della candidatura si è cercato Fratelli d'Italia non noi ha cercato un rimedio indicando un altro candidato non ce l'ha fatta perché i senatori avevano già votato si rivoterà per questo decimo ultimo candidato Consiglio Superiore ripeto oggi pesa più per me è più rilevanza il gesto il passo indietro di Valentino a fronte di una accusa che nel nostro paese con la presunzione di non colpevolezza non ha alcun valore però mi scusi non crede che dopo tutte le indagini le inchieste il fango anche che diciamo la magistratura italiana ha dovuto affrontare in tutti questi anni fosse di fatto comunque un ombre una macchia a inserire nell'organo di autogoverno costituzionalmente garantito presieduto dal presidente della Repubblica un soggetto esatto ma voi fate un discorso di macchia la differenza tra noi e voi è questa che per voi un'informazione di garanzie è una macchia per me è un'indagine attivata nei confronti di un soggetto presunto innocente visto mi scusi lei sta ammissificando la realtà il Movimento 5 Stelle ha semplicemente detto noi mi scusi noi non possiamo accordare il nostro voto ad un soggetto che ci auguriamo non sia indagato imputato esca comunque pulito innocente da ogni tipo di inchiesta che lo riguardi però non possiamo consentire il nostro voto per un organo così importante che è l'organo di governo della magistratura che dovrebbe riportare un'area nuova nella magistratura ma mi faccio l'esempio di un nostro soggetto indagato che è stato proposto io ne ricordo che Chiara Pendino non si è ricandidata al comune di Torino perché era stato posto ad un'indagine per la quale poi è stata anche assolta quindi io vi consiglio di prendere da esempio la morale del Movimento 5 Stelle perché se l'aveste fatto negli anni probabilmente il suo partito non avrebbe la fama che ha nel Paese io oggi apprezzo il gesto di Peppino Valentino ma se questo gesto non ci fosse stato avreste chiesto un passo indietro il periodo ipotetico del terzo tipo non va bene il gesto c'è stato lui ha fatto il passo indietro io lo rispetto per questo passo indietro io però gliela riformulo la domanda se non ci fosse stato il buon gesto così come l'abbiamo definito adesso avreste chiesto un passo indietro ma questo non lo so perché il buon gesto non c'è stato c'è stato c'è stato io quello che dico in questo che in un Paese che fa delle garanzie costituzionali il suo punto di riferimento un'informazione di garanzia che non si chiama più comunicazione giudiziaria e qui il dottor Ayala mi comprende bene non è più comunicazione giudiziaria ma informazione di garanzia vuol dire che il soggetto è garantito nella sua difesa da una accusa però è una questione di opportunità politica ma da questo punto di vista la questione di opportunità politica non può essere scambiata con una sorta di addebito voi ritenete che l'informazione di garanzia è una macchia noi riteniamo che invece è un segnale di garanzia coinvolto in un'inchiesta di indrangheta non lo possiamo votare noi solo questo abbiamo detto tranne quando capita a voi allora il discorso non è mai successo capisco che l'ipotesi diciamo in periodo di poter però ci comunica ci comunica un orientamento politico ma lei è garantista o non è garantista? e allora perché mi fa questa domanda? se lei è garantista non me la dovrebbe neanche fare visto che la sindaca è stata anche assolta guardate come ci guarda io sto dicendo che nell'ordine del governo della magistratura non può entrare un soggetto indagato per draga io sono convinto di una cosa che l'opportunità è nelle mani di chi decide se un gesto è opportuno non è vero è anche nelle scelte e negli orientamenti dei partiti io penso che l'opportunità appartiene su questo non mi può dire lo dico io l'opportunità è nella come posso dire nella disponibilità del soggetto che decide se una cosa è opportuna o non è opportuna o ci sono le regole va bene ci sono le condotte individuali e poi ci sono le regole costituzionali e poi ci sono le informazioni di garanzia ci sono gli orientamenti dei partiti abbiamo ragione noi quando diciamo che l'abuso d'ufficio è quel reato che molte volte costringe i sindaci al passo di lato in politica per una semplice informazione di garanzia per l'abuso d'ufficio con il 94% dei proscioglimenti se noi diciamo che l'opportunità è una regola io dico che l'opportunità appartiene a chi deve decidere se un suo gesto è opportuno o inopportuno io penso che Peppino Valentino molto opportunamente mi scusi però Valentino però posso dire una cosa Valentino è stato l'unico che non si è autocandidato ma è stato proposto da 10 deputati come prevede il regolamento quindi non è una questione di opportunità personale e individuale ma è una scelta politica di un partito che ha deciso di fare una candidatura sentiremo cosa ci dirà il capogruppo di Fratelli d'Italia tanto tu rimani però è una cosa rispetto a questo punto ma sta entrando foto glielo chiediamo poi direttamente vai no dimmi voglio dire è vero che i partiti devono avere devono valutare l'opportunità in un contesto normale in questo contesto purtroppo in cui l'avviso di garanzia è una clava sull'autonomia della politica le cose un po' cambiano del resto il Movimento 5 Stelle non ha chiesto Virginia Raggi di dimettersi quando è stata indagata ma dopo è stata assolta ma noi non l'avremmo candidata se fosse stata indagata è stata indagata nel costo del mandato perché si doveva dimettersi ma siamo garantisti o non siamo garantisti allora decidiamoci una volta perché se voi siete garantisti per i vostri e giustizialisti allora dite perché quello è l'organo di autogoverno della magistratura che deve decidere dell'indipendenza della magistratura e noi non l'avremmo candidata se fosse stata indagata come sa Benissimo il dibattito di Roma è una struttura di corruzione non ha la stessa dignità non capisco il vostro garantista corrente alterna grazie a voi come sempre